ok ricominciamo con un altro tipo di esercizio sempre mantenendo l'attenzione del cane provo premiandola prima col gioco la pallina poi senza ad allontanarmi di più seduta bravissima adesso io do interesse a questo attivo sempre l'attenzione del cane la metto a terra non mi va che arrivi seduta torno indietro do sempre attenzione ma non mi permette la metto a terra seduta torno indietro un po di pazienza siamo già a confronto seduta 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 mettiamo tutti i scarichi seduta bravissima seduta seduta ehi prendila bravissima 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 seduta 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 è più interessata questa bene seduta 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 guarda qua che c'è guarda qua che c'è aspetto sempre che i cani siano attenzione adesso facciamo la prova del nome se lei ci sta seduta seduta senza problemi ricomincio bravissima ok ciao 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 ciao